Musica Dai diritti umani alla salute il Consiglio regionale approva 11 atti di indirizzo L'Aula ha commemorato Angelo Burzi e Lido Riba Luce ombre delle carceri piemontesi presentato il dossier annuale Nuova edizione di Consiglio News Ben trovati diritti umani, salute, lotta all'antisemitismo, riduzione delle tempistiche per il rilascio dei passaporti 11 gli atti di indirizzo approvati dall'Aula Sono 11 gli ordini del giorno approvati dal Consiglio regionale nella prima seduta del 2023 In tema di diritti umani via libera due atti di indirizzo A firma del Presidente del Consiglio Stefano all'Asia A sostegno del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari E a favore dell'intitolazione nei comuni piemontesi di Piazze dei diritti umani Approvati anche tre atti di indirizzo sulla salute in ambiente urbano Presentati da Domenico Rossi, Partito Democratico Silvio Magliano, Moderati e Sara Di Sabato, Movimento 5 Stelle Sempre in tema di salute, l'Aula ha approvato un altro ordine del giorno A firma Silvio Magliano riguardanti i decreti attuativi per il riconoscimento dell'emicrania come malattia sociale E una mozione presentata da Alessandro Stecco, Lega, sulla revoca della tessera sanitaria Ai dipendenti ed ex dipendenti delle istituzioni europee residenti in Italia Lotta all'antisemitismo, questo il tema di due atti di indirizzo Primi firmatari Fabrizio Ricca, Lega e Francesco Graglia, Forza Italia Via Libera infine a due ordini del giorno presentati rispettivamente da Silvana Cossato, Liberi Uguali Verdi E Paolo Ruzzo, la Forza Italia Mirati a ristabilire in tempi ragionevoli il diritto dei cittadini piemontesi A ottenere passaporto, carta d'identità e porto d'armi Commemorati in aula Angelo Burzi e Lido Riba Il Consiglio regionale ha commemorato l'ex assessore e consigliere regionale Angelo Burzi Scomparso il 24 dicembre 2021 E Lido Riba, ex consigliere assessore e vicepresidente del Consiglio regionale Scomparso il 14 luglio 2022 Il presidente Stefano Allasia ha ripercorso in aula la lunga carriera politica di Angelo Burzi Tra i fondatori del Movimento Forza Italia in Piemonte E ha rivolto le condoglianze a nome dell'Assemblea regionale alla moglie Giovanna E alle figlie di Burzi, Eleonora e Giulia Presenti in aula anche numerosi rappresentanti delle istituzioni ed ex colleghi Coloro che hanno conosciuto Angelo Burzi Autentico liberale e persone delle grandi istituzioni E quello cui ha lavorato, lo ricordano il suo impegno Interrotto in difesa dei valori di uguaglianza e di giustizia sociale Quale esempio di etica Per la grande correttezza professionale Che ha esercitato con chiarezza e passione In momenti più rilevanti dell'attività politica Nella vita consigliare e amministrativa della nostra regione Ricordato in aula anche l'ex consigliere, assessore e vicepresidente del Consiglio regionale Lido Riba, scomparso il 14 luglio 2022 Per 15 anni anche presidente e anima di Unce in Piemonte E per 10 anni alla presidenza di Formont Alla commemorazione hanno preso parte la moglie e i due figli Con diversi esponenti politici e delle istituzioni Lido Riba, uno dei protagonisti della vita politica e sociale cuneese Si era definito occitano per nascita e per cultura Un uomo innamorato della sua terra In particolare di quelle eccezionali montagne A cui ha dedicato con tanta passione la sua vita e il suo lavoro L'ospedale infantile di Alessandria sarà potenziato L'ha annunciato l'assessore alla sanità Luigi Cardi Rispondendo a un'interrogazione di Domenico Ravetti Partito Democratico Quale futuro attende il reparto di neuropsichiatria Dell'ospedale infantile Cesare Arrigo di Alessandria? Questa l'interrogazione che il consigliere PD Domenico Ravetti Si è rivolto all'assessore alla sanità Luigi Cardi Nell'ambito dei question time Una preoccupazione quella del consigliere democratico Che nasce da alcune recenti voci sul possibile passaggio Della gestione dell'ospedale infantile Cesare Arrigo Dall'azienda sanitaria ospedaliera di Alessandria Alla nuova azienda sanitaria ospedaliera infantile di Torino Non c'è alcuna intenzione di annettere i servizi di neuropsichiatria infantile Ad altra struttura ospedaliera Né tanto meno di comprimerne l'attività Ha rassicurato l'assessore regionale alla sanità Luigi Cardi Oltre a voler garantire l'attuale assetto Qui fa capo il presidio infantile Vi è la predisposizione di un piano di potenziamento e sviluppo Del presidio stesso Che consentirà nei prossimi anni La realizzazione del nuovo blocco operatorio Delle opere di consolidamento antisismico E del piano di efficientamento energetico Ha concluso l'assessore Icardi C'è unità di intenti per la ricollocazione Del reparto volo per il Piemonte E dei vigili del fuoco L'assessore regionale ai trasporti e infrastrutture Marco Gabusi ha risposto a un'interpellanza Presentata da Silvio Emagliano Moderati Un ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale Inoltre impegna la giunta regionale Ad attivarsi con ogni iniziativa politica Utile per facilitare L'attuazione della ricollocazione Del reparto volo dei vigili del fuoco Del Piemonte Le interlocuzioni sono andate avanti Ha spiegato l'assessore Gabusi Per l'individuazione del terreno idoneo E in poche settimane si pensa Che possa essere presentato il progetto Per attuare all'intervento E arrivare all'acquisizione dell'area indicata Il gruppo di lavoro istituito dai vigili del fuoco Come spiegato nell'interpellanza Ha ritenuto la soluzione più idonea Quella relativa all'acquisizione di una porzione di area agricola Nel comune di San Maurizio Canavese Di circa 25 mila metri quadri Da annettere funzionalmente All'aeroporto internazionale di Torino Caselle In Piemonte è previsto un forte investimento Di 25,3 milioni Per l'istituto Ferrantia Porti Su cui è stato deciso Un intervento straordinario Lo ha annunciato il garante regionale Delle persone detenute Bruno Mellano In occasione dell'incontro Gli spazi del carcere contemporaneo Che si è tenuto in sala bandiere A Palazzo Lascaris Durante il quale è stato presentato Il dossier delle criticità strutturali e logistiche Delle carceri piemontesi Realizzato con il contributo dei garanti comunali La criticità maggiore È quella che sembra mancare un disegno Una progettualità complessiva E come garanti abbiamo quindi chiesto Che prima di qualsiasi intervento Occorre fare un monitoraggio Un'analisi degli spazi Delle risorse che ci sono Il provveditato dell'amministrazione penitenziaria Del Piemonte, Liguria e Val d'Aosta Mi ha annunciato che per il 2023 Avrà un bilancio di almeno un milione di euro A questo si affianca un intervento Molto significativo sul ferrante a porti di Torino Oltre 25 milioni di euro E si affiancano alcuni interventi Che sono già programmati e progettati Per esempio sul carcere di Alba Il carcere deve essere umano E deve anche essere un momento La carcerazione finalizzata al reinserimento sociale Della persona dissenuta Attraverso attività Per questa edizione è tutto Prima di salutarvi Vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it Trovate notizie e aggiornamenti Sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte Arrivederci Grazie a tutti